Signori buongiorno e benvenuti al quarto congresso mondiale di ossigeno-ozono-terapia. Sono Piero Muscheri, giornalista ed editore di una nuova start-up che apre sul web negli ultimi tre mesi, si chiama MedicinaItalia.tv e punta ad affiancare il sistema sanitario italiano nel racconto audiovisivo sul web. Il web sta evolvendo tanto, sta cambiando anche proprio la metodologia di comunicazione e abbiamo creato un gruppo di lavoro che sta andando in questa direzione. Per me è un piacere e un onore essere qui a raccontare questa tre giorni intensa che ha un tema oltretutto molto attuale, la sanità dell'efficacia e del risparmio, una sfida del terzo millennio. Certamente tutti abbiamo capito che questa crisi non è una crisi passeggera, è una crisi proprio strutturale, qualcosa che sta facendo riflettere tutto il mondo economico, scientifico ed è giusto quindi che questo quarto convegno si agganci a questa tematica così importante e così pressante. Vedremo in questa tre giorni intensa come questo mondo dell'ozono-terapia si sta attivando in questo senso, quali progressi sono stati fatti, quali nuove metodologie. Intanto ad aprire i lavori e a portare i saluti al convegno il professor Fouad, presidente AMSI. Prego professore. Buongiorno a tutti, benvenuti anche a Roma, tanti amici colleghi che vengono da fuori dell'Italia. Come presidente dei medici di origine straniera sicuramente sono molto contento a vedere una scena così importante ad unire i colleghi di tutto il pianeta quasi. Per questo io ringrazio e sono molto grato al professor Franzine per i suoi impegni eccellenti a portare avanti tutto quello che riguarda la ricerca scientifica di un tema molto importante come l'ossigeno-ozono-terapia. Io sono appena tornato da Gerusalemme, da Tel Aviv, dalla Terra Santa, da Israele. Sicuramente abbiamo fatto un viaggio, una delegazione importante dei medici italiani composta dall'associazione medici di origine straniera con il direttore generale della ASL RMF con anche la Comunità del Mondo Arabo e il Movimento Unite per Unire. E ogni volta che vado in un viaggio in un nostro paese, che sto girando parecchio ultimamente, anche con la collaborazione con la Lega Araba in Egitto, non fanno altro che chiedere, vogliamo la presenza dei medici italiani. Con questo congresso mondiale lo dimostra quanto è importante la ricerca, quanto è molto importante la professionalità dei colleghi italiani. Poi io ho difeso questa cosa all'ordine dei medici da anni e mi ha fatto molto piacere proprio come esponente dell'ordine dei medici ho partecipato alla riunione all'Istituto Superiore di Sanità quando si parlava di ossigeno e ozonoterapia. E mi ha fatto molto piacere dare il mio contributo, anche perché lavoro tutti i giorni, essendo direttore sanitario dei centri di riabilitazione, e lo vedo tutti i giorni quanto è importante l'indicazione precisa nel momento giusto e l'ozonoterapia ha risolto parecchi problemi. Allora questo viaggio ha messo ancora una volta l'importanza del dialogo tra noi tutti i colleghi. Ha una finalità molto importante e questo oggi spero, con il congresso di oggi, tutti i colleghi possono ognuno dare il suo contributo per uscire fuori con due finalità importanti. di migliorare ancora di più la nostra conoscenza internazionale su questo tema. Io mi impegno anche a livello del mondo arabo, a livello dei nostri paesi di origini, di portare avanti questa conoscenza, magari come avevo parlato con il professor Franzini, fermando un protocollo d'intesa proprio con la società, che vi ringrazio di convolgermi una volta, ma vengo volentieri. Ieri ho parlato anche con gli ambasciatori, un ricevimento all'ambasciata dell'Arabia Saudita, su questo tema e tanti, specialmente in Arabia Saudita, in Qatar, in Egitto, in Libano, non conoscono questa metodica e secondo me quello che ha fatto la società presieduta da te in Italia lo sta facendo anche nel mondo, è intensificare questa conoscenza. Poi l'altra finalità è un dialogo interculturale e interreligioso con una crisi mondiale. In questo momento, chi meglio di noi medici e operatori sanitari a portare avanti il dialogo tramite la medicina? Siamo impegnati medici ebrei, medici arabi, medici musulmani, medici cristiani, medici italiani e di origini straniere, tutti tramite questa forma di conoscenza e di aggiornamento professionale di portare avanti il dialogo interculturale e interreligioso e se mi consentite, anche come ci ha insegnato ultimamente il nostro Papa Francesco, che io come esponente del mondo arabo ho detto è un idolo per noi. Noi dovremmo continuare, lo dice un esponente del mondo islamico, l'ho detto anche in Vaticano e ha dato un esalto a questa dichiarazione, la ripeto oggi come augurio dell'apertura del congresso augurandoci di vederci più spesso, di portare avanti più iniziativa riguardo l'AMSI e la COMAI e Uniti per Unire a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Vi ringrazio, vi auguro un grandissimo convegno e sono sicuro che usciremo con un bagaglio ancora più ricco dal punto di vista scientifico, culturale e del dialogo. Grazie, buona giornata. Bene, dialogo interculturale e interreligioso, quindi siamo davvero in piena globalizzazione e questo ci fa comprendere che la crisi è anche un'opportunità, ma questo lo sappiamo da sempre. Bisogna capire quali sono le nuove strade e come vedete anche per questo mondo ce ne sono tante, tante potenzialità di sviluppo. Permetteteci di salutare anche come comitato scientifico l'onorevole Giulio Smith che sarebbe dovuto essere qui con noi proprio a portare i saluti dal Ministro. Ci è arrivato poco fa la comunicazione che ha avuto un malore e purtroppo non ha potuto raggiungerci. 30 anni di sviluppo scientifico attorno a questo percorso, Giovanni Ricevuti, Carlo Luongo a fianco al professor Mariano Franzini sono stati certamente artefici di questo percorso, poi tante altre persone perché i successi sono sempre certamente un gioco di squadre. Allora per aprire al meglio questo quarto congresso diamo la parola ad alcuni di questi protagonisti. Fra un po' sentiremmo proprio il professor Ricevuti e poi il professor Mariano Franzini. Ora do la parola alla dottoressa Bertè, prego. Buongiorno a tutti, solo due parole. Ringrazio tutte le persone che mi hanno dato un'altra grandissima occasione di ricordare papà, il professor Franco Antonio Bertè. Già quando è mancato alcuni allievi hanno voluto ricordarlo con un'associazione dedicata a lui che ha coperto varie iniziative. Ora le nostre strade sono state molto differenti, la sua è stata una strada scientifica, la mia artistica, quindi non ci siamo mai incontrati a livello professionale. Ma per quello che io sentivo dire da lui quando questa terapia era ancora agli albori, forse anche un po' criticata, ci ha creduto tanto. E quindi se oggi dopo tutto questo tempo voi siete qui, probabilmente era giusto crederci. Ecco, solo queste parole per ricordarlo. Ringrazio anche tutti voi e vi auguro buon lavoro per queste vostre giornate. Ebbene, certamente crederci è fondamentale, fondamentale anche ricordare tutti coloro che hanno operato in questo lungo percorso. Ora la parola al professor Giovanni Ricevuti. Prego, professore. Grazie, grazie dell'invito, delle parole che sono state dette, soprattutto dell'introduzione, del ricordo al professor Bertè, a cui dobbiamo tutti molto, soprattutto per la volontà di voler fare cultura e portare avanti aspetti importanti nella gestione del malato da vari punti di vista, guardando a 360 gradi le problematiche del malato e soprattutto gli interessi del malato. Cerchiamo di fare una piccola introduzione sull'argomento del trattamento, dell'uso dell'ossigeno-zonoterapia, dell'ozonoterapia nell'ambito scientifico attuale. Esistono ormai diverse documentazioni. La storia è lunga, è documentata, tanti lavori scientifici e recentemente ne stanno crescendo, ne stanno aumentando i lavori che documentano in maniera scientifica e specificatamente documentata il ruolo e l'efficacia dell'ossigeno-zonoterapia nel trattamento di molte patologie. Anche di patologie impensate o comunque a cui non si poteva dare una risposta negli anni scorsi. Due parole quindi come introduzione del congresso e come introduzione al tema su questi argomenti. Parleremo poi dopo di qualcosa di biochimica, se ci sarà tempo, altrimenti smettiamo anticipatamente. Ozono e le sue proprietà. Lo sappiamo tutti però non fa male ricordarlo che l'ozono è una forma allotropica dell'ossigeno quindi è una forma trimolecolare dell'ossigeno molto instabile e comunque quindi strettamente correlata con l'ossigeno stesso presente in natura e deriva dal contatto con gli ultravioletti o con attività elettriche che vanno a modificare la struttura elettrica dell'ossigeno stesso. In natura succede questo evento ed è l'occasione per poter creare una difesa contro l'eccesso dell'efficacia dei raggi solari e quindi difende la nostra salute da questo punto di vista. ha un ruolo importante nell'equilibrio ecologico e ha comunque una grossa caratteristica di essere estremamente instabile e di essere collegato con tante molecole specifiche dell'ossigeno con un effetto molto ben specifico che nell'atmosfera serve a creare appunto come dicevo prima la difesa del pianeta dall'eccesso dei raggi ultravioletti che arrivano da parte del sole. quindi ha un ruolo protettivo però nel contempo come molecola ha anche un effetto di tipo tossico diretto sulla materia vivente e sull'uomo per cui vengono stabiliti dei limiti sia dal punto di vista ambientale, ecologico che anche poi dopo come sappiamo dal punto di vista medico. Effetto protettivo ed effetto anche di danno biologico. ecco perché bisogna stare molto attenti da questo punto di vista nell'utilizzo. è un gas in colore irritante dal caratteristico odore pungente che può creare dei problemi allo stato gassoso perché collegato con la temperatura soprattutto quando si alterno in presenza di acqua e di temperatura si può creare un fenomeno di autoaccensione soprattutto quando la concentrazione è superiore del 20%. Quindi questo è un atteggiamento anche di precauzione che deve essere utilizzato nell'ambito della procedura medica tant'è vero che le società danno sempre delle grosse indicazioni sull'uso, sull'utilizzo e sull'attenzione delle macchine stesse perché la liberazione dell'ossigeno nell'ambiente può creare anche qualche problema da questo punto di vista. Agente ossidante perché collegato con l'ossigeno altamente instabile e quindi tutto il discorso del meccanismo d'azione e degli effetti terapeutici positivi e degli effetti terapeutici e degli effetti anche probabilmente anche tossici sono collegati con questo problema dell'ossidazione, del processo di ossidoriduzione come agente fortemente ossidante. Ossidante che è anche un processo biochimico, molecolare, molto utile senza il quale non si realizzerebbe la azione finale che noi desideriamo nella pratica dell'ossigeno-zonoterapia. È una reazione quindi con sostanze organiche insatore che viene chiamato ozonolisi che da origine ha dei, lo vediamo meglio nella struttura successivamente ha uno zonide primario, è uno zonide che è molto instabile con l'origine poi dopo specifica dei perossidi e acqua con sostanze che arrivano quindi a giocare nel cuore del problema dell'ossidoriduzione. Sulla base di questo cerchiamo di capire il meccanismo. Ci sono delle azioni quindi dirette sulla sostanza biologica vivente, sull'uomo ma anche sugli elementi più piccoli e per cercare di capire gli effetti biologici cominciamo da capire perché è tossico dal punto di vista dell'inalazione. È tossico perché ha un impatto su un'enorme quantità di cellule del sistema immunocompetente essenzialmente creando delle risposte biologiche. Quindi attraverso un meccanismo di contatto e una trasduzione del segnale a livello molecolare di membrana e nucleare, lo vediamo successivamente, si arriva a dare una attivazione o una stimolazione a diversi elementi cellulari che vengono richiamati, raccolti, reclutati nella sede di contatto con la molecola realizzando un processo infiammatorio. Noi sappiamo tutti che il processo infiammatorio è un'ottima cosa. Senza questo noi non saremmo in grado di stare in buona salute. E sappiamo che il processo infiammatorio è ottimo nella fase acuta e se dura poco. Il processo infiammatorio è dannoso quando diventa cronico e tutte le infiammazioni croniche danno delle patologie molto ben specifiche. Questo reclutamento di cellule infiammatorie riguarda tutte le cellule del sistema infiammatorio. Essenzialmente, lo vediamo qui in questa diapositiva, con l'interessamento dell'ozono attraverso la cellula endoteliale e soprattutto l'organizzazione con l'acido ialuronico l'oglio aluronato ad alto e a basso peso molecolare lo vediamo successivamente perché può essere diviso può essere a secondo della quantità e dell'importanza dell'azione dell'ozono ci può essere la produzione di alto e basso peso molecolare dell'acido ialuronico con due diversi effetti terapeutici o di danno a secondo della situazione in cui ci troviamo. Con quindi l'organizzazione di un processo sedativo che a secondo dell'entità e quindi della quantità di ozono che è venuto a contatto con le cellule endoteliale va a stimolare due tipi di popolazione o i macrofici di tipo M1 che sono di tipo M1 e M2 quindi di tipo protettivo e di tipo aggressivo è l'inverso ma comunque e le cellule di tipo infiammatorio e neutrofili e soprattutto le molecole della membrana e i fosfolipidi e i lipidi di circolanti e quindi va a creare un processo di ossido riduzione e di lipo per ossido ossidazione con un risultato finale che è di stimolo alla cellula di trasduzione del messaggio e di stimolo a livello nucleare. Una volta arrivato a livello nucleare il messaggio attraverso l'NFK beta in generale c'è una doppia risposta anche qui in senso positivo o negativo con produzione di sostanze pro-infiammatorie o anti-infiammatorie. L'esposizione quindi dell'ossigeno a livello cellulare va a creare delle sostanze degli intermediati dei mezzi di trasmissione del messaggio che vanno a creare quindi una condizione come abbiamo visto nella figura precedente una risposta di tipo cellulare o infiammatoria pro-infiammatoria o anti-infiammatoria. Quello che conta è tenere presente che comunque la perossidazione dei lipidi soprattutto di membrana dà origine a un danno della struttura della membrana o meglio può dare origine ad un danno ma può anche dare origine a delle alterazioni strutturali della membrana che sono quelle che poi dopo giustificano la reologia del globulo rosso nel sangue in determinate patologie quali essenzialmente le patologie vascolari periferiche. Un altro aspetto importante dal punto di vista molecolare è il contatto dimostrato con il tool-like receptor che voi sapete essere una famiglia di recettori estremamente importanti che mediano tantissime funzioni dal punto di vista biologico molecolare immunologico sulle cellule immunocompotenti essenzialmente i linfociti. Questa azione a livello delle cellule del polmone o comunque delle cellule immunocompetenti macrofagi linfociti eccetera vanno sono alla base del meccanismo della risposta dell'immunità innata quindi della primaria risposta ad ogni aggressione che l'organismo che l'organismo riceve e in questo caso c'è una produzione di sostanze di un riconoscimento ecco di sostanze di molecolari associate al danno cellulare che è intervenuto mentre invece fino a poco tempo fa questo sistema di recettori riconosceva soltanto molecole collegate con la gente patogeno virus o cellule adesso invece noi abbiamo questa possibilità di andare a legare delle molecole che sono per noi fondamentali dal punto di vista dell'azione dell'ossigeno ozono concludendo l'acido ialuronico la fibronectina il fibrinogeno e quindi e quindi vedendo questa figura noi recuperiamo quello che vi ho detto precedentemente il fatto che l'azione dell'ossigeno dell'ozono può creare a seconda della quantità e dell'intensità e della durata del contatto una reazione di macromolecola di acido ialuronico o di micromolecola di acido ialuronico con dei recettori specifici del CD44 e quindi andare a realizzare uno stress ossidativo che può essere basso o alto e l'espressione quindi di citochine pro-infiammatorie o anti-infiammatorie o comunque correlate con il sistema immunitario il sistema del complemento delle molecole di chemochine il TNF-alfa oppure l'interchina 6 tutte citochine di tipo infiammatorio da questo punto di vista l'ozono e l'acido ialuronico sono frammenti che possono stimolare i macrofagi come ho detto prima la fase i macrofagi di tipo M1 o di tipo M2 quindi a seconda della quantità noi possiamo andare a stimolare i macrofagi che creano un danno o i macrofagi che sono di tipo riparativo o di tipo protettivo un ulteriore aspetto è come abbiamo visto qui dalla stimolazione il problema delle molecole solubili dell'infiammazione quindi sicuramente c'è un collegamento tra l'ossigeno zono e le cellule infiammatorie e la produzione di pro-infiammatori quindi di molecole solubili della pro-infiammazione TNF-alfa il complemento gli L6 gli L17 gli L8 il fattore ottavo quelli della coagulazione tutto il processo della infiammazione che comprende quindi la cascata coagulativa la cascata complementare e la cascata delle citochine pro-infiammatorie e infiammatori nell'ambito della situazione della quantità dell'attacco dell'ossigeno zono e dell'intervento o dell'NF-Kbeta o dell'altro fattore NF nucleare noi abbiamo o la risposta di tipo protettiva o la risposta di tipo aggressiva da parte della cellula e quindi del sistema dell'ossigeno zono quindi noi possiamo usare l'ozono come vogliamo come aggressore o come difensore ecco perché viene applicato in ambito oncologico oppure in ambito di immunodeficienze perché noi possiamo ottenere entrambi i risultati questo è importante il pointer non fa molta luce ma comunque lo potete vedere l'ozono l'esposizione all'ozono delle cellule induce l'attivazione dell'NF-Kbeta che è estremamente importante come meccanismo di trasduzione del segnale transmembranario e nucleare cellulare perché è fondamentale in tutti i processi che avvengono e attraverso questo c'è una produzione di citochine di chemochine come abbiamo detto in precedenza un altro aspetto importante può essere collegato quindi come derivazione dell'utilizzo quindi dell'ozono alla base di queste conoscenze sulla base di questo c'è una grossa diatriba ancora in atto se l'ozono è un farmaco o no o l'ozono terapia può essere considerato una farmacoterapia o meno alcuni dicono stiamoci attenti perché l'ozono ha una caratteristica molto ben specifica va a toccare i recettori ma non ha bisogno dei recettori di membrana per poter agire quindi mentre tutti i farmaci hanno bisogno di un recettore di membrana l'ozono non ha bisogno del recettore per espletare la sua funzione perché è un'azione diretta di contatto a livello cellulare della membrana cellulare quindi non ha specifici recettori non ha una dinamica una farmacodinamica una farmacocinetica molto specifica come i farmaci e non riusciamo a stabilire l'emivita di azione quindi deve essere usato in maniera molto personalizzata perché ha questa caratteristica estremamente importante che invece lo socia alla terapia farmacologica classica che è l'ormesi perché l'ormesi non è altro che una risposta a campana in cui basse dosaggi hanno un effetto e alti dosaggi hanno un altro effetto e in effetti l'abbiamo già visto nelle diapositive precedenti con bassi o alti dosaggi noi possiamo ottenere una risposta antinfiammatoria o proinfiammatoria e quindi è chiaro che in questo caso parlare di ormesi fa la felicità dei farmacologi perché per loro l'ormesi è un elemento estremamente importante ma anche per noi perché in questa maniera noi sappiamo dosare e sappiamo perché il professor Banzini continua a stabilire a dire attenzione ai dosaggi a secondo della situazione a secondo del paziente a secondo della patologia e del risultato che noi vogliamo ottenere un altro aspetto importante quindi sempre a cascata è che tutto si risolve nell'ambito oppure tutto va a finire poi dopo nel problema del processo ossidativo quindi il meccanismo molecolare attraverso transduzioni di segnali e di attività segnali specializzate è importante però il concetto è che c'è uno stress ossidativo che va controllato e lo stress ossidativo è alla base di tante malattie come alla base di tante risoluzioni di malattie perché ma perché l'ossigeno l'ozono di per se stesso non agisce in maniera diretta ma agisce sempre attraverso mediatori il dosaggio è importante il recettore no il meccanismo molecolare transmembranario nucleare sì e questo porta ad induzione di secondi messaggeri estremamente importanti in rapporto a quello che vogliamo ottenere ripeto pro-infiammatorio o anti-infiammatorio da questo punto di vista e quindi non può che essere un estremo farmaco un estremo importante arma sia in azione diretta ma anche soprattutto adiuvante alla classica terapia e non sostitutiva anche perché non può sostituirsi ma soprattutto questo è l'elemento importante e novità di questi ultimi anni che l'utilizzo dell'ozono può prevenire ridurre o migliorare migliorare nel senso di non peggiorare controllare la tossicità di molti farmaci articoli recenti su riviste estremamente importanti hanno condotto hanno dimostrato che l'utilizzo dell'ozono il precondizionamento il pretrattamento dell'ozono aiuta riduce gli effetti tossici del cisplatino del metotrexate e soprattutto di alcune procedure chirurgiche e della radiazione del trattamento radioterapico del cervello perché il trattamento come vedremo successivamente del cervello trattato per gliomi o gliolostomi o neoplasie maligne il trattamento con ossigeno-ozono fa recuperare un quadro di normalità funzionale e circolatoria del cervello stesso molti articoli hanno descritto questi effetti di precondizionamento nella protezione contro il danno medicale quindi estremamente importante ovviamente sempre collegato a un meccanismo che ha a base lo stress ossidativo questa è una cosa importante allora se è collegato con lo stress ossidativo c'è qualcuno che si è posto la domanda se un basso stress può essere utile noi l'avevamo già visto già in precedenza ed è chiaro che è estremamente importante sottolineare questo aspetto che un controllato e moderato stress ossidativo produce delle reazioni biologiche che sono estremamente positive ricordiamo il concetto dell'ormesi che ho detto in precedenza quelli che l'esempio molto classico è l'esercizio portato dall'esercizio un'attività fisica moderata e continuativa è estremamente utile per la vita e non crea problemi chi fa un esercizio un'attività fisica estremamente elevata e spinta e senza allenamento ha degli effetti completamente negativi questo è in termini molto molto pratici il concetto dell'ormesi e qui veniamo a ribadire il concetto che avevo detto in precedenza dell'importanza dei neuro dei mediatori modulatori transmembranari e nucleari tra cui sottolineo ancora il problema dell'NFK beta che quando è stimolato porta ad un processo ad una risposta infiammatoria e un danno di tipo tessutale mentre invece la trascrizione questo fattore nucleare che viene stimolato da una moderata ossidazione da parte dell'ozono porta invece ad un effetto antiossidante quindi noi vediamo dimostrato ancora un'altra volta in laboratorio che la quantità dell'ozono e la durata dello stress con l'ozono è estremamente significativa ed importante per ottenere il risultato e soprattutto per andare a decidere noi qual è il modulatore mediatore molecolare che vogliamo attivare per ottenere o uno stress ossidativo un danno oppure una protezione dal punto di vista generale e tutto questo evidentemente attraverso situazioni fisiologiche che sono quindi il glutatione la SOD il NAD il NAD ridotto eccetera eccetera quindi queste molecole che sono fisiologicamente prodotte a livello della cellula stessa l'ultima osservazione è che attraverso questo questo mediatore nucleare noi abbiamo e quindi attraverso una via di uno stress ossidativo moderato noi andiamo a sopprimere l'NFK beta quindi la risposta infiammatoria quindi è un loop della reazione molecolare a livello cellulare nucleare che ottiene l'effetto positivo e questo spiega come mai molti trattamenti con ossigeno zono hanno degli effetti positivi nel tempo perché riescono a modulare la risposta e quindi questo spiega perché può essere utilizzato in tante patologie come per esempio patologie vascolari dove c'è un fattore molto ben specifico collegato con l'iposiemia e l'iposia e questo fattore inducibile dall'isposiemia è molto sensibile invece allo stress ossidativo moderato indotto dall'ozono e quindi non fa altro che migliorare la perfusione a livello vascolare periferico cerebrale e quindi spiega in maniera biochimica l'effetto positivo dell'azione dell'ossigeno ozono nelle patologie vascolari periferiche e anche centrali con una versatilità dell'ozione con delle risposte che noi abbiamo visto questo riassume più o meno quello che vi ho detto con il fatto che noi possiamo avere sostanze stimoli esterni che vanno a creare uno stress moderato e con lo stress moderato noi abbiamo soltanto l'attivazione di alcuni mediatori specifici lo vedete sulla parte sinistra della diapositiva che sono vanno ad agire a livello nucleare producendo attivando la produzione l'incremento della produzione delle sostanze autoprotettive antiossidanti endogene cellulari quindi il risultato finale è un'azione antineoplastica antiossidativa antidistruzione del territorio viceversa se noi abbiamo una lipo per ossiderazione importante l'attivazione dell'Nfk beta uno stress ossidativo molto rilevante destra della diapositiva noi arriviamo a produrre delle citochine molto rilevanti l'ossido nitrico eccetera e quindi attivare tutto il processo dell'infiammazione in maniera pesante il risultato finale è tutto ciò che l'infiammazione attiva aggressiva può creare fino al processo neoplastico che può essere utilizzato qui nell'altra diapositiva lo vediamo lo stress ossidativo molto riassunto insomma riassuntivo con la produzione delle citochine che vanno a difenderci un altro ho parlato del danno polmonare parliamo di un effetto positivo che tutti conoscono l'effetto sulla ernia discale perché c'è un'azione entradiscale ma per due motivi uno è quello che abbiamo detto adesso la riduzione della componente infiammatoria perché c'è l'efficacia dell'ozono a basso dosaggio e quindi va a indurre una riduzione del processo infiammatorio e noi sappiamo che quando si riduce il processo infiammatorio si riduce anche l'edema l'altro è un aumento attraverso l'iperossigenazione un aumento dell'ossigenazione locale e quindi non fa altro che riprendere la perfusione quindi due meccanismi di base favorevoli e che spiegano perché agisce sulla sulla terapia dell'ernia della procedura intradiscale dell'ernia discale con una riduzione e l'altra cosa in più è mettendo insieme riduzione del processo infiammatorio aumento della perfusione e dell'ossigenazione riduzione del dolore che è quello che il paziente chiede in maniera prioritaria come azione terapeutica e quindi sono spiegati con una sola molecola tre effetti terapeutici che noi possiamo avere di qui soltanto un'osservazione per esempio dell'applicazione dell'ozono con l'ambito per esempio del diabete importantissimo malattia metabolica importante con degli effetti vascolari metabolici trofici strutturali neurologici eccetera l'iperglicemia induce alterazioni metaboliche e l'attivazione del pathway del polioli crea delle problematiche che fanno creare un eccesso di stress ossidativo molto rilevante ecco con il precondizionamento quindi l'adattamento ad uno stress ossidativo di bassa rilevanza nella malattia diabetica l'ossigenozonoterapia può portare a una condizione che protegge dal stress ossidativo e migliorare anche la e migliorare anche la glicolisi in qualche termine e quindi migliorare l'assetto metabolico aspetto vascolare attraverso l'axantino ossidasi che è frequentemente implicata ed è dipendente dai radicali liberi noi abbiamo delle risposte di tipo patologico il precondizionamento con ossigeno quindi la durata cronica un trattamento non nell'acuto ma nel cronico con ossigenozonoterapia provoca a bassi dosaggi un miglioramento del stato di ossigenazione e quindi quello che ho detto in alcune diapositive precedenti la stimolazione di automolecole di molecole endogene antiossidanti specifiche idem l'altro aspetto importante in cui viene utilizzato è nel trappianto epatico dove c'è un imponente dopo il trappianto un imponente ischemia reperfusion injury che è estremamente dannosa e l'utilizzo dell'ossigenozonoterapia in maniera adeguata e opportuna nel trappianto epatico riduce fortemente questo danno da riperfusione che è uno stress ossidativo estremamente rilevante attraverso un'ozonizzazione del plasma in maniera molto specifica poi ci sono anche altri argomenti come sull'acidonismo Parkinson sul Parkinson che pure ha un altro meccanismo di sua produzione che perché è un problema di carenza di neurotrasmettitori cerebrali di danno cerebrale ecco nell'ambito dello stress ossidativo moderato a livello cerebrale noi abbiamo delle dimostrazioni pratiche che l'azione a livello mitocondriale nelle cellule nervose del pancreas si realizza un processo antiossidante e quindi c'è un miglioramento dell'attività funzionale della cellula nervosa e quindi della necessità e della facilità del neurotrasmettitore di agire molto meglio ci sono dimostrazioni nella storia di tante attività quindi sulla base di questa attività dell'azione dell'ossigeno ozono ma ripeto e sottolineo il meccanismo importante che viene anche a livello del globulo rosso che è la glicolisi azione dell'ossigeno ozono sulla glicolisi e con l'attivazione del ciclo di Krebs e quindi la produzione di ATP quindi anche produzione di energia e di meccanismi di substrati energetici perché ci sia una reazione positiva da parte dell'organismo stesso produzione di prostaciclina e la prostaciclina è estremamente utile per la circolazione quando l'endotelio è alterato nell'aterosclerosi non c'è più produzione di prostaciclina e noi usiamo delle prostacicline sintetiche per trattare la OCP e la PAUD eccetera le patologie vascolari periferiche con l'ossigenozono noi otteniamo un meccanismo di recupero attraverso la stimolazione endoteliale della produzione endogena di prostaciclina e quindi un risultato abbastanza positivo con una molecola molto particolare qui lo vedete quello che succede a livello del globulo rosso e poi ci sarebbero tanti altri meccanismi anche a livello del sistema immunitario in cui l'azione a basso o alto peso molecolare a alto basso o alto dosaggio dell'ossigenozono porta a quello che dicevo prima un'azione tipo immunostimolante o immunodeprimenti l'immunostimolante a basso dosaggio avviene perché essenzialmente alcune molecole vengono ridotte e altre vengono aumentate soprattutto l'interlochina 2 che tutti voi conoscete essere esattamente importante nel modulare il processo infiammatorio io penso che abbiamo detto un po' di meccanismi ce ne sarebbero tantissimi altri possiamo andare avanti ancora e anche dire cosa fa sulla fagocitosi cosa fa sui linfociti cosa fa sui neutrofili cosa fa sulla chemiotassi cosa fa sulla circolazione cerebrale ne avevo portato anche c'è un articolo molto bello proprio quello che dicevo prima sulla protezione del cervello da trattamento radioterapico in corso di glioblastoma con la dimostrazione con la PET e con la risonanza magnetica funzionale del recupero funzionale della circolazione a livello cerebrale con ossigeno-zonoterapia cronica dopo aver fatto il danno della radioterapia e su cui ce ne sarebbe da parlare non so se loro vogliono sentirmi ancora per dieci minuti posso vedere se viene subito quella perché è una bella depositiva sulla indicazione ecco sul globulo rosso era proprio l'ultima fase quindi dovrei andare sull'ultima terapia sull'ultima perché le altre cose le ho dette già ecco questo era sui globuli rossi questo è sull'apparato cardiovascolare sul carburato cardiovascolare e quello che mi sembrava più interessante era eccolo qua l'azione sul cervello dove riduce l'infiammazione e quello che è bello da vedere è il prima e il dopo dove c'è il glioblastoma il tumore maligno trattato irradiato dove non c'è perfusione ma vedete che nel tempo guardate sulla destra e sotto la perfusione del cervello riprende e una dimostrazione che non può essere falsa più di questa più bella di questa dell'azione dell'ossigeno azono non mi sembra che ci possa essere grazie 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 anche al professor Giovanni ricevuti io adesso darò la parola ai moderatori la professoressa Menendez il professor Valdenassi poi ci raggiunge anche il professor Vaiano volevo ricordarvi che tutti i lavori sono ripresi da due cameraman che sono in sale saranno poi disponibili sulla web tv ozonotv.it e quindi www.ozonotv.it e sarà un'occasione per rivedere tutti i lavori tutta la tre giorni e integralmente registrata a proposito di questo domattina farò un breve intervento di dieci minuti per portare un contributo rispetto a tutta quella che è l'evoluzione del mondo internet cosa sta accadendo dentro il web i social network come si può interagire con i clienti attraverso un utilizzo accurato dei social network la profilazione insomma tutto quello che sta accadendo anche all'interno del mondo del marketing rispetto al web che sta evolvendo molto i contenuti in mobilità quindi tablet smartphone c'è tutta un'evoluzione tecnologica importante domattina porterò un contributo che parte integrante del progetto Medicina Italia del quale parlavo prima ora la parola al presidente Siot il professor Mariano Franzini a lei professore bene la mia relazione non è tanto di ordine scientifico come forse avete letto nel programma ma vuol dare un po' il quadro di questi 30 anni di quanto abbiamo fatto in Italia per l'ossigeno zona terapia e quindi poi mi sono anche riproposto anche se non è mia abitudine leggere così conterò in assoluto i tempi se no molti sanno che tendo a dilungarmi un po' e essere un po' logorroico cari colleghi ho l'onore di aprire questo quarto congresso mondiale ringraziandovi della vostra numerosa e altamente qualificata partecipazione a questo congresso sono iscritti relatori e partecipanti provenienti da oltre 27 nazioni diverse presentando come avete visto 97 relazioni un vero record una vera vetrina mondiale che ci inorgoglisce ma che Siot ha perseguito e organizzato per offrirla a tutti i propri associati vogliamo così aprire un interscambio scientifico globale per accrescere sempre di più le nostre conoscenze e gli spunti nuovi che questa entusiasmante pratica medica e cioè l'ossigeno ozono non ha ancora esaurito di proporci studiando un effetto clinico scoprendo un meccanismo d'azione come vedete ci si aprono sempre nuovi orizzonti spesso ci siamo chiesti e ce lo chiediamo ancora quando finirà di stupirci favorevolmente questa terapia e questo è un comune sentire che tutti coloro che la usano in ambulatorio in ospedale e nelle università ci riferiscono direi quasi quotidianamente forse mai finché il nostro corpo avrà bisogno di ossigeno e del suo superattivo ozono grazie quindi a tutti voi che ogni giorno fate crescere presso la popolazione la consapevolezza che l'ossigeno ozono è pratica medica probabilmente non solo utile ma fondamentale quest'anno come Sioto compiamo 30 anni e i fatti dimostrano che il nostro cammino è il nostro crescere e sarebbe oggi impossibile riepilogare ogni avvenimento ogni nome ogni situazione di questi 30 anni ed anche per questo ho voluto scrivere e portare in stampa il volume che vi è stato consegnato denso di ricordi di nomi di avvenimenti di foto e anche alcuni spunti scientifici ma oggi mi corre l'obbligo di segnalarvi quello che ritengo i passaggi più importanti che abbiamo vissuto e che hanno richiesto a tutti noi impegno coraggio e fermezza e ricerca dunque vediamo se riesco anche ad andare avanti magari ecco bene anche per questo vi ringrazio della vostra fiducia alla quale io e tutti noi del direttivo abbiamo fatto il massimo per esserne degni come vedete come vedete siamo partiti con il primo congresso nazionale la società scientifica è stata fondata nel 1983 e il primo congresso del 1984 poche relazioni pochi relatori ma un grande coraggio l'abbiamo voluto volendo organizzarlo per accendere un faro sulla nostra terapia consci comunque che avremmo attirato lodi critiche e feroci invidie e così anche è stato devo dire siamo stati facili profeti ci siamo difesi in ogni sede ed abbiamo risposto con fatti concreti con impegno con fermezza e con la ricerca siamo così arrivati al congresso mondiale del 1999 e chi ha partecipato ricorderà oltre che la numerosissima presenza anche quella del premio Nobel Montagnier e dei vari patrocini che sono stati dati al congresso dall'UNESCO e dalla regione Veneto e siamo stati in casa abbiamo organizzato il congresso in casa di una casa farmaceutica sembrava una pace fatta un reciproco riconoscimento anche perché è bene ribadirlo non siamo una medicina alternativa siamo solamente medicina cura per l'uomo e basta tanto successo la Siot l'ha pagato duramente con tentativi di divisioni bassezze degne solo di chi come il tempo ha dimostrato ha avuto la mente più nei bassi fondi interessi che non al cospetto e al servizio etico arriviamo così al 2000 ed usciamo ufficialmente presentando i risultati sul trattamento delle lombagie e delle lomboscialtagie avevamo aspettato a parlarne ufficialmente finché non eravamo ultra preparati e sicuri perché ci rendevamo conto che il tema sarebbe stato non solo importantissimo ma anche dirompente e grazie al compianto amico dottor Verga unico e vero inventore del trattamento prima deriso e vituperato ma che Siot ha sempre difeso difeso anche da chi poi voleva appropriarsi della sua felicissima intuizione frutto di studio di ricerca e di dedizione fatta su oltre 3000 casi eseguiti tutti gratuitamente lavoro impegno per la ricerca anche questo abbiamo da imparare dal compianto Cesare è tanto importante l'argomento e ad alto successo che qualche anno dopo Siot con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dato vita alla consensus conference decisiva al raggiungimento delle nostre aspettative anche in questo caso non abbiamo avuto paura a confrontarci con le istituzioni universitarie accademiche e amministrative più importanti e di ciò ringraziamo il nostro maestro del nostro percorso in questo caso il professor Santilli nessuna pratica medica ha avuto un riconoscimento tanto importante noi sì tempi che io ricordo eroici eroici per l'impegno le ansie le battaglie più o meno sotterrane condotte sempre con tutto il direttivo che io continuo a ringraziare e con tutti gli associati per fortuna nostra e quindi anche della SIOT la nostra squadra sotto la guida decisa precisa ed inarrestabile del professor Bertè ci ha portati ad ottenere quanto giustamente ci era dovuto non ci curavamo dei detrattori interni portatori del nulla e che nulla li ha risucchiati dialogavamo in modo costruttivo con i critici esterni e tanti tantissimi se non partivano da posizioni precostituite hanno capito ed apprezzato il nostro messaggio clinico e scientifico abbiamo così tolto dal campo per merito dell'istituto superiore buona parte anche del pressapochismo di alcuni colleghi vera ed unica controindicazione della nostra terapia se vogliamo crescere ancora la nostra offerta sanitaria deve essere sempre più professionale ripetibile e impostata su rigorose metodologie rigoroso tecnicismo rigorosa certificazione di qualità tecnologica in poche parole studio cultura dell'ossigeno zono protocolli da seguire attentamente abbattendo così come dicevo il pressapochismo e la conseguente inefficacia fonte di pericolo per tutti gli ozonoterapeuti innanzitutto e anche per i pazienti no all'improvvisazione e allo sperimentalismo questa deve essere la nostra parola d'ordine fine a se stesso in ambienti non adeguati non seguendo le norme stringenti della sperimentazione non ottenere efficacia peggio danneggiare il paziente è un suicidio per il singolo medico ma anche per tutta la comunità degli ozonoterapeuti riconoscere braccare e portarli questi avventuriesi a conoscenza della SIOT è un atto non solo giusto ed etico ma di difesa per tutti i colori che seriamente lavorano e la SIOT è qui per difenderli lasciatemi ricordare e ringraziare tutti i colleghi che in un modo tangibile aiutano la SIOT e ancora più decisamente questo bisogna capire aiutano loro stessi e mi riferisco agli associati non solo SIOT ma specialmente anche agli associati ASO vera forza della nostra società scientifica SIOT non ha sponsor se non l'ASO ma il tema economico per far uscire vincente un progetto specie come il nostro che si confronta giornalmente con realtà mastodontiche e quindi gelose del loro spazio è un tema di vitale importanza non solo per SIOT ma penso per tutte le società scientifiche che vogliono davvero esistere e progredire altra tappa importante da SIOT in Italia in Europa e nel mondo e aver preteso di avere apparecchiature sicure forti e resistenti ma specialmente credo sia l'unico esempio certificate dal Ministero della Salute come dispositivi medici categoria questa universalmente riconosciuta a protezione del medico innanzitutto ma anche del paziente per la nostra SIOT aver avuto un partner tecnologico di così vasta e profonda esperienza da sempre certificato è un pass per ogni confronto scientifico amministrativo e legale questo spesso ci ha fatto vincere alcune battaglie richiamo questo concetto non solo agli associati ma anche ai colleghi qui presenti provenienti da tante società scientifiche nel mondo la tecnologia ci deve aiutare ci deve rendere sicuri come medici ci deve rendere inattaccabile sotto ogni profilo come ho detto sia legale sia amministrativo che scientifico una società scientifica che supporta o peggio supporta l'uso di mezzi tecnologici inadeguati non fa sicuramente i propri interessi e tanto meno quello dei suoi iscritti SIOT ha sempre reso sicuri e certi anche nei momenti difficili e contrastati tutti gli associati che mai hanno dovuto bloccare la loro attività cosa che invece ed è storia è successo a tutti gli altri colleghi non SIOT con grave danno innanzitutto per la loro attività e per la loro immagine SIOT su questo ambito è sempre stato irremovibile e direi inattaccabile sotto l'occhio vigile del ministero della salute addirittura con due anni di anticipo sull'entrata in vigore della legge abbiamo preteso le certificazioni ottenute non quelle certificazioni blatterali blatterate magari con falsi e fuorvianti attestati ma noi siamo andati avanti su questa strada intransigenti e forse subito c'è costato ma noi oggi ci siamo siamo qui e ancora di più la SIOT fa ed è punto di riferimento non solo oggi iniziamo questa tre giorni scientifici ricchissima di esperienze varie internazionali per numero e spessore inimmaginabili all'inizio della nostra avventura scientifica oggi abbiamo l'onore di avervi qui oggi abbiamo l'onore di ritrovarci qui oggi abbiamo l'onore di avere il patrocinio del ministero della salute oggi abbiamo l'onore di avere una bibliografia scientifica internazionale invidiabile oggi abbiamo l'onore di essere citati da televisioni nazionali dalle maggiori testate che parlano del nostro congresso e di voi oggi abbiamo l'onore di aver ricevuto un saluto non formale ma partecipe dal nostro ministro della salute che voglio a nome di tutti ringraziare e del quale potete leggere la lettera che peraltro poi pubblicheremo sul sito e quindi la vedrete con calma oggi pertanto cari amici ho l'onore di dare il via al quarto congresso mondiale augurando a tutti voi una buona permanenza e che questo lavoro sia per tutti voi profico e apportatore di grandi soddisfazioni professionali grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti